Sabato alle ore 15.30 l'Eurospin riceve la Roma ventesimo volley al Palacorbia. Quando mancano sei giornate alla fine del campionato, gli algheresi sono sesti, ma ancora non possono festeggiare la matematica salvezza. Visto che con 18 punti ancora in palio, la distanza dal quart'ultimo posto è solo, si fa per dire, di 10 lunghezze. E la quart'ultima piazza è occupata proprio dai romani, avversari di giornata. Quindi per i ragazzi di Cochmatta, la gara di sabato assomiglia molto ad un match point salvezza. All'andata, l'Eurospin vinse in trasferta al tie-break, dopo esserci fatta rimontare due set. Gli algheresi inoltre tengono a mantenere il sesto posto, quindi guarderanno con un occhio di riguardo il risultato dell'unipol Pomezia, settima ad un punto ed impegnata ad Iglesias.